Ciao, mi chiamo Sara, arrivo dalla scuola di Invorio in provincia di Novara e vado in terza B. Noi abbiamo il nostro Woman Cube, che è nato tutto dal progetto dell'anno scorso della scuola di Mena, che è praticamente questo cubo con le sei donne più importanti che hanno fatto la storia. Se si scannerizzava l'immagine veniva fuori il video della spiegazione perché sono state le più importanti. Noi abbiamo fatto lo stesso quest'anno con un cubo, si chiama il cubo della grammatica inglese, perché in terza si ripassa tutta la grammatica inglese per renderlo un po' più carino e non noioso abbiamo creato questo. Ogni gruppo ha fatto un diverso argomento, si prende l'immagine, si scannerizza con quest'app che si chiama CapireVille e appunto viene fuori la spiegazione con il nostro video che abbiamo creato noi. Questo qua è un esempio. E questi video li abbiamo creati noi appunto, si segue il nostro canale che è Civergante e dietro appunto c'è anche una prova così. Abbiamo creato anche questo cartello che si dice stiamo registrando non disturbare che praticamente quando magari stavamo facendo i video anche se venivano bene magari entrava qualcuno e ci disturbava.